chi dove dire cosa? tutto mele! let's go! sto aspettando gli agnolotti con ricotta e mele voglio proprio vedere sono curiosissima facciamo sto sforzo, assaggiamo secondo te ricotta e mele? no ma sono arrivati alla carne aspettiamo vediamo se sono ricotta e mele? siii buoni infatti sono belli chiari l'attesa evanza la ricotta si sente tantissimo sono freschi si sente guarda che bella cremina wow è una mela tagliata a fette al posto del torso, la marmellata di albicocchi amaretti coperta di pasta sfoglia cotta in forno ma io andrei di mani mamma mia che opera d'arte la devo rifare? com'è? no adesso tocca a me no dai la rifaccio com'è? è buonissima io vado di mano la marmellata in mezzo tanta roba davvero buono e la marmellata aiuta diciamo a dare un po' di dolce in più perché le mele ovviamente non sono dolcissime quelle per me? tutto? si dai mettilo qui me lo metto io vabbè va me lo sono messo una mela al giorno leva il medico di torno la mia carina è da un po' di dolce in più la mia carina è da un po' di dolce in più per me Succo di mela e kiwi, è dolce, ma si sente il kiwi tanto, è secco, è liquido, è liquido. Allora abbiamo finito il primo sopralluogo, carino, ci siamo già venuti anche altre volte, sto aspettando Lori che sta svuotando, se noi diciamo che ci svuotiamo il pipistrello, le donne? Fatecelo sapere qua sotto. Grazie mille. Bruciano, altrimenti avrei fatto una porcata. Con le mani? No, l'avrei piegata così? Hai visto, è uscito tutto il vapore. Che buona brucia. Cosa stai facendo? Con lo spargo di zucchero, dove non c'è. Il bello che ha pure chiesto se volevamo lo zucchero, ovvio no? Ovvio. Guarda qua, pastella, bella unta. Luca. Te l'ho detto. Buone, come buone. Ho preso la toma. Ciappa la buta. Noi ci ciappiamo qua. Cosa c'è qua dentro? Spam! Cioè, è grande quanto la mia faccia. Non ti coprire il volto. Fai vedere, fai vedere. Pasta sfoglia, con le mele, con la gelatina. È buonissima. Marmellata di albicocca anche qua. Adesso vado in mezzo. Si sfoglia tutta. Mi stavo prendendo due. Che buono ragazzi, buonissima. Mi aiuto. Non mangiarmi, non mangiarmi. Comincia a fare freddo. Io ho lasciato in macchina il giubbotto, ho detto, ma no, dai, c'è il sole. C'è il naso rosso, guarda. Si, te l'ho detto. E boh, abbiamo già fatto un bel giro. Piano, che mi fai... Scusa. Mi fa bene che c'è lo stabilizzatore, ma non è che può stabilizzare. E vai, si continua. Venita a niente. Venita a niente. Io ti ho visto, ti racconto. Ti ho fregata anche a sto giro, ti ho fregata. Posso assaggiare il sidro? Si, quale volete? Di mela secco, di mela dolce? Dolce. Leggero, frizzantino. Il profumo sembra tipo spumante. Sì, esatto. Il sapore è tipo spumante. Noi ce ne torniamo a casa, infredoliti. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, seguiteci. E basta, chiudiamo qua. Sì. Ciao. Ciao.